un pieno per parigi e si va un po' di cari per fare un po' di cari e la tecnologia è molto importante per la gente e il veico è aiutato per me per rinforzare l'iphone, l'ipad e la mute watch come vedete, solo per collegare la corda USB e questo è tutto! Stiamo seguendo un cammino in fronte di noi e proviamo a parlare con il motore cosa pensi di questo Iveco? questo è un buon camion è un camion automatico automatico, molto bene su la ruta con il comfort è possibile dei filmeri? sì, non c'è problema è molto bello, il bordo è giusto è ben fatto, design veramente dei buoni camion è un buon camion è un buon camion è un buon camion è un buon camion come vedete 2 in mattina e siamo fuori di Marciale Duval e stanno utilizzando Iveco per vendere tutti i fratelli e vegetali all around the island all around the island con l'Eiffel Tower con l'Eiffel Tower è il momento di dire goodbye a la Francia e siamo ora a Benelux in Amsterdam ci vediamo con l'Eiffel Tower con l'Eiffel Tower con l'Eiffel Tower con l'Eiffel Tower con l'Eiffel Tower